Zona arancione rafforzata, da domani scattano le misure per Petriano e Acqualagna. Furto al ristorante Donna Malia, sottratti beni e fondo cassa per oltre 10.000 euro. Arriva l'ok dal Consiglio Comunale per la Cittadella dello Sport a Villa Fastigi. Seconda giornata di riprese per il docufilm su Tonino Benelli, le immagini dal 7. Grazie a tutti. Il governatore Acquaroli che entrerà in vigore a partire da domani e che a causa dei numeri dei contagi in rialzo inserirà i comuni di Petriano e Acqualagna in zona arancione rafforzata almeno fino al prossimo 18 maggio. Sentiamo allora in questo primo servizio i dettagli e le parole dei sindaci dei due comuni. Entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, mercoledì 12 maggio, la nuova ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli che ha istituito la zona arancione rafforzata per i comuni della provincia pesarese di Acqualagna e Petriano. Dall'analisi epidemiologica effettuata sul territorio regionale è emerso che mentre il tasso regionale dei positivi su 100.000 abitanti pari a 107,85 non preoccupa in quanto inferiore al limite previsto di 250, ad Acqualagna e Petriano il tasso dei positivi richiede un'ulteriore attenzione e un'azione di intervento per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Nei due territori sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, così come rimarranno possibili gli spostamenti per motivi di salute, studio, lavoro e per comprovate necessità, come quella di assicurare lo svolgimento della didattica scolastica in presenza nei limiti in cui essa stessa è consentita. Il transito nei due comuni è consentito qualora necessario raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Necessaria in ogni caso la compilazione e l'utilizzo dell'autocertificazione. L'ordinanza sarà varida fino al prossimo 18 maggio. Purtroppo c'è stata un'esplosione dei contagi da ricollegarsi a un fenomeno di contagio in ambito, non vuole dire scolastico, perché ha caratterizzato solo alcune classi. Il problema è subentrato nelle famiglie perché il ragazzino in casa, magari anche assintomatico, ha contagiato genitori, nonni, fratelli e sorelle. Siamo oltre 70 positivi alla data attuale. Provo a pensare all'economia del territorio che ha forte vocazione turistica con la nostra ristorazione. Penso alla bellezza del furlo che accoglie migliaia di turisti nella stagione. Chiaramente tutto ciò viene meno proprio in questa situazione di generazione rafforzata. Quindi i ristoratori, i bar che siano ormai abituati a servire all'aperto in maniera molto egregia e carina, si trovano in questo momento a portare dentro i tavoli e non poter lavorare se non con l'asporto. Questa è un'ulteriore mazzata, un danno al territorio. Purtroppo i nostri dati nelle ultime due settimane erano in notevole aumento. I dati dei positivi perché siamo passati da una media di 15, 18, 20 positivi ad oltre 50. Dispiace molto per quelle attività che comunque tipo bar, ristoranti debbano tornare a chiudere perché dopo tanti mesi di sacrifici si erano arrivati ad avere un po' di luce. Abbiamo fatto anche uno screening a scuola con tutti gli alunni sia delle elementari che delle medie, a parte due classi dove erano già in quarantena e ancora ci sono diversi positivi, se no tutte le altre classi hanno dato esito negativo. L'abbiamo fatto proprio ieri ad oltre 120 ragazzi, quindi un test anche importante. Questo aumento così repentino sinceramente non c'è stato un evento scatenante. L'unica cosa che ho connotato rispetto ai contagi di gennaio e febbraio e marzo è che prima avevamo magari due contagi su ogni famiglia, quindi spesso capitava una famiglia di sei persone dove erano contagiati solo in due. Oggi invece la famiglia contagiata viene contagiata nel totale, cioè in tutto il suo complesso, quindi 5-6 unità per ogni famiglia. Sono tutte situazioni che ho trasmesso anche al Dipartimento di Prevenzione, che siano informazioni utili. E continuiamo a parlare di Covid, in questo caso del Servizio Sanità della Regione Marche che ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.022 tamponi, 2.258 nel percorso nuove diagnosi e 1.763 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 151 con 51 casi in provincia di Pesar Rubino, tre i decessi che si sono verificati nelle scorse 24 ore e nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese. Ed ora lo spazio dedicato alla cronaca perché oggi si è registrato nella fascia oraria di pranzo un incidente in strada lungo Foglia delle Nazioni. Tre i veicoli coinvolti, un'automobile, un monopattino elettrico ed una moto. Proprio il conducente della moto che viaggiava in direzione Baia Flaminia ha investito all'altezza del Civico 9 un ragazzo sul monopattino che stava attraversando sulle strisce pedonali. Nello scontro il Centauro classe 1962 ha urtato frontalmente un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Quattro in totale i feriti, le due persone che si trovavano all'interno dell'auto e l'uomo alla guida del monopattino sono stati trasportati all'ospedale di Pesaro mentre il Centauro, le cui condizioni sono risultate essere le più serie è stato trasportato all'ospedale Torrette di Ancona. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. E parliamo ancora di cronaca perché la scorsa notte un gruppo di malviventi si è introdotto all'interno del ristorante Donna Mali è situato in Viale Trieste a Pesaro e ha sottratto beni e fondo cassa per un valore complessivo superiore a 10.000 euro. I ladri che hanno operato di notte sono entrati scassinando l'ingresso sul retro. Il sistema di allarme all'interno del locale era disattivato e dopo essersi diretti alla cassa i malviventi hanno perlustrato anche le altre stanze del ristorante. Oltre al denaro presente nel registratore sono state sottratte alcune bottiglie di vino pregiato, un tablet e dei monili d'oro. I titolari del locale si sono accorti dell'accaduto soltanto alla riapertura del ristorante e hanno prontamente esporto denunce ai carabinieri che stanno tuttora indagando sul furto per risalire ai responsabili. Cambiamo completamente argomento e parliamo della seduta di ieri del Consiglio Comunale. Diversi infatti sono stati temi affrontati e nel prossimo servizio vi raccontiamo nello specifico dell'approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di Villa Fastigi, la cosiddetta Cittadella dello Sport, targata Vispesaro, ma anche della riqualificazione prevista per l'ex aquedotto che sarà trasformato in un locale per il pubblico spettacolo. È stata approvata ieri in Consiglio Comunale la variazione al piano triennale delle opere pubbliche nella quale è stato inserito l'importo di oltre 4 milioni di euro destinato alla concessione per la riqualificazione del centro sportivo di Villa Fastigi. Ciò significa che la Cittadella del Pallone, targata Vispesaro, ha incassato l'ok da parte del Consiglio. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, ovvero tra Vispesaro e Matigroup, in project financing con il Comune di Pesaro, prevede due nuovi campi di calcio a 11, uno di calcio a 5, due di paddles scoperti e uno al coperto. Oltre a questi saranno realizzate tre nuove aree, di cui una ristoro, una di gioco e una verde, insieme a nuovi spogliatoi, impianti fotovoltaici e tribune riqualificate. La possibilità, come si diceva, è proprio quella di riqualificare ma anche aumentare la potenzialità del centro sportivo. Per aggiungere alcuni dettagli, si può dire che oltre a riqualificare i campi principali, il campo A, campo B, oltre alla realizzazione dei campi da paddles, del campo di calcio a 5, riqualificazione degli spogliatoi, quindi anche di tutto quello che sono gli impianti, c'è un'importante riqualificazione anche di tutto il sistema di illuminamento della struttura che permetterà anche una migliore qualità del gioco, in tutti i campi e in tutte le aree, c'è la realizzazione di spazi e ambienti dedicati alla struttura e dedicati alla società sportiva, negli ambienti che sono attualmente presenti sotto le gradinate, che permetteranno di vivere in modo più completo ed efficiente anche tutta la parte organizzativa, diciamo, non che l'affettamente gioco, calcistica. L'amministrazione comunale mette a disposizione un luogo del comune per fare sviluppare le attività sportive in città su proposta della squadra della città. Non c'è nessun tipo di speculazione, non c'è nessun tipo di arricchimento da parte di qualcuno, c'è semplicemente la volontà di investire sullo sport e di far crescere la squadra della nostra città. Quindi mi sembra un'operazione molto importante, virtuosa, fra l'altro, grazie al project, noi recupereremo anche le risorse che ci siamo impegnati a spendere con il credito sportivo per il mutuo che abbiamo preso con il credito sportivo, quindi per il comune è un'operazione virtuosa tutto tondo, virtuosa dal punto di vista sportivo, virtuosa dal punto di vista economico e quelle risorse che risparmia il comune in un investimento di questo tipo potranno essere investite dall'amministrazione comunale in altre strutture sportive della città. Nuovi progetti e riqualificazioni interesseranno anche l'area di via dell'Acquedotto. Il Consiglio ha infatti approvato all'unanimità la variante urbanistica richiesta da Blondi SRL per la realizzazione di un locale per il pubblico spettacolo, con il recupero della struttura dell'ex acquedotto di proprietà Aspes. Il fabbricato rimarrà inalterato sia nella forma che nella volumetria, eccezione fatta per un ampliamento dovuto all'installazione di alcune scalinate. All'interno il solaio attualmente esistente verrà abbassato per realizzare due sale. Quella al piano terreno sarà destinata alla ristorazione e quella al piano superiore verrà invece destinata al pubblico spettacolo. È un luogo per pubblico spettacolo, ha già la destinazione, ha già la possibilità di realizzare pubblico spettacolo, ma con questa delibera permette di ampliare, fare lavori, ristrutturare meglio e soprattutto allargare l'offerta a tutti coloro che vogliono utilizzare questi immobili. Ad oggi lo potrebbero fare soltanto per la loro associazione. Ci tengo e sono contento di questa delibera perché finalmente possiamo mettere a mano di un'area che più volte abbiamo detto è essere in condizioni abbastanza critiche, quindi spero che il lavoro che verrà realizzato possa finalmente mettere e dare la giusta dignità a quello spazio. Seconda giornata di riprese per il docufilm dal titolo Benelli su Benelli che racconterà la vita e la carriera di Tonino Benelli. Questa mattina quindi siamo andati sul set durante la registrazione di alcune scene e abbiamo intervistato i protagonisti di questo importante progetto per tutta la città ma anche per la regione. Seconda giornata di riprese per Benelli su Benelli, il docufilm ispirato e che racconta la vita del leggendario Tonino Benelli. Questa mattina siamo venuti agli Orti Giuli dove il set e il cast si sono spostati per continuare le registrazioni delle scene di questo docufilm. Raccontiamo Pesaro, la vedremo molto bene. Oggi siamo agli Orti Giuli, ad esempio, Parco Cittadino molto bello, rimasto abbastanza intatto e quindi simile a com'era al tempo. Abbiamo oggi in scena tutti i fratelli Benelli con Tonino Piccolino, un bel momento. Pesaro sarà presente e abbastanza protagonista di questa storia, insieme in generale alle Marche, questa nostra regione, l'Italia all'inizio del Novecento, questa nascita dell'industria Benelli è importante, insomma entusiasmante anche per questa terra. La storia di Tonino Benelli è la storia comunque di una famiglia, è la storia di una città e quindi noi ne siamo molto orgogliosi, noi come pesaresi, ma anche proprio come italiani, visto che ai tempi è stato un grande vincitore, ha vinto più volte, pur se la sua carriera in realtà è solo di otto anni. Sì, sì, ha vinto, ha vinto, ha vinto, era un grande campione a livello pesarese, ovviamente tanto amato e conosciuto, ma a livello nazionale, comunque internazionale. Ha portato la visibilità alla Benelli e parliamo di lui, delle sue imprese sportive, parliamo della sua vita privata, della sua vita familiare, quindi entriamo anche un pochino nell'intimo dell'uomo. Direi che le riprese stanno andando bene, ieri sono state concentrate al Museo Benelli e quindi c'erano delle riprese create con l'attore protagonista in particolare, Gimelli Alessandro, che è anche l'ideatore del film. Oggi giriamo invece qua agli Ortigiuli e praticamente le riprese saranno concentrate su tutti i fratelli Benelli che si sono trovati appunto a portare avanti questa azienda motociclistica creata poi dalla madre, rimasta vedova in età prematura e quindi oggi è tutto un esterno. Massimo Fratelloni è uno dei fratelli Benelli e sono Francesco, che è il fratello che seguiva principalmente l'ambito della rete commerciale. Quindi per me è una bella soddisfazione essere qua dal momento che ho iniziato il mio percorso ad attore con una parodia di tre spot pubblicitari amatoriali, poi avevo la voglia di ritrovarmi su un vero sette e ho iniziato ad andare a caccia di registi e di produttori, ho conosciuto Aleandro Castellani, Pupiavati, Enrico Vanzina, Luca Mignero con i quali ho lavorato in film e fiction. Oggi sono qua per questa nuova avventura, ben felice di vivere questa giornata. È davvero una gioia poter girare questo film documentario a Pesaro. Il motivo è che le marche sono per noi fondamentali. Spiego meglio, l'anno scorso insieme all'aiuto di Daniele Vimini, il vice sindaco e assessore alla cultura, abbiamo portato Oliver Stone, attraverso il sindaco Matteo Ricci abbiamo potuto portare un uomo di quel calibro nelle marche. È iniziata un'operazione da parte di Genoma Films Marche, che ha sede qui a Pesaro, di grande attenzione al territorio e la notizia che desidero dare a tutti i marchigiani è che questo film, Benelli su Benelli, è stato scelto per rappresentare l'Italia all'interno delle celebrazioni che si faranno a dicembre a Los Angeles per la stella di Pavarotti. Questo significa che rappresenterà Pesaro a Los Angeles nel mondo e si vedrà il territorio marchigiano, si vedrà Pesaro, più in generale le marche dove genereremo altre scene. Insomma, l'obiettivo è proprio quello di sviluppare il cineturismo e davvero, fidatevi, è questo il modo migliore. Un ringraziamento particolare va alla Regione Marche, alla Film Commission Marche e al Comune, nella persona di Daniele Vimini e Matteo Ricci, che tutte queste persone sono state fondamentali per realizzare questo film e saranno fondamentali per la distribuzione di questo film in tutto il mondo e in tutti i festival. Desidero ringraziare, oltre all'amministrazione comunale e la Film Commission Marche, che ha aiutato questo film, anche la famiglia Selci, che ci è stata molto vicino, e anche la famiglia Scavolini. Grazie a tutti e a tutti quelli che desidereranno ancora starci vicino. Grazie. Per la prima volta dalla soppressione delle circoscrizioni nel 2008, il Comune torna a far gestire parte delle risorse del bilancio direttamente al territorio, con una grande operazione di partecipazione, presentata dal Sindaco Matteo Ricci e dall'assessore Enzo Belloni, che distribuirà ai quartieri 200 mila euro. Questo l'importo che la Giunta destinerà ai 12 quartieri al municipio di Montecicardo, per interventi di manutenzione ordinaria. Saranno gli organismi stessi a decidere come impegnare le risorse per realizzare iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative. I criteri di ripartizione degli importi tengono conto della popolazione, dell'estensione della densità di popolazione ed estensione delle aree verdi da mantenere. Gli esordienti 2008 del Muraglia Calcio, con la collaborazione dei volontari Asur del quartiere 7 Montegranaro-Muraglia e di Legambiente Onlus, si sono dedicati oggi alla pulizia delle aree verdi del quartiere. Oltre 20 i sacchi di rifiuti raccolti. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sull'abbandono dei rifiuti, sul rispetto dell'ambiente e soprattutto sulla raccolta differenziata. L'iniziativa si inserisce nel progetto Inclusione e Benessere, il cui capofila è l'associazione Ale Muraglia. Spendere i soldi che arriveranno dall'Europa per lo sviluppo del territorio, con un numero sempre crescente di servizi e offerte produttive, turistiche e culturali per l'area pesarese, sono le sfide lanciate da CNA nel corso dell'Assemblea elettiva territoriale di Pesaro. Antonio Bianchini è stato confermato nella carica di responsabile, mentre al termine dell'Assemblea sono stati eletti nuovi presidenti territoriali. Per la CNA di Pesaro è stato nominato Giacomo Dini, per l'area di Vallefoglia Mirco Bezziccheri, per l'area di Gabice Mare Donatella Galli. Il Centro Ricerche Floristiche Marche Brilli Cattarini si arricchisce di una nuova collezione di libri di botanica, saggi, disegni, stampe e riviste specializzate, donata dai parenti dei coniugi Pierantoni Simoncelli, scomparsi lo scorso anno e appassionati di botanica. Il presidente della provincia Giuseppe Paolini, il dirigente del servizio ambiente Andrea Pacchiarotti ed il direttore del Centro Leonardo Gubellini hanno incontrato nella sede del Centro Ricerche Floristiche Luca Garbugli e Paola Simoncelli, parenti dei coniugi scomparsi, per ringraziarli di questo dono ma anche disponibilità della collettività. L'informa Giovani del Comune, servizio gratuito di informazione di primo orientamento sul lavoro, formazione, tempo libero e tanto altro, festeggia le sue prime tre decadi di attività, confermandosi ancora oggi a distanza di 30 anni dalla sua nascita, appunto uno dei servizi più richiesti dai pesaresi. L'importante traguardo è stato ricordato ieri con una conferenza stampa che si è svolta in Comune. Vediamo. Il 3 maggio del 1990 è nato l'Informa Giovani a Pesaro, uno fra i primi Informa Giovani nati a livello nazionale. È un servizio di cui andiamo orgogliosi. Basti pensare alle tante visualizzazioni che ha, la pagina dell'Informa Giovani ha circa dal 13 al 15% di utenti che la visitano, quindi dei numeri importanti perché si parla dai 3 ai 4 milioni di visualizzazioni in un anno. Questo è il nuovo loghettino, molto giovane, che abbiamo deciso di donare come amministrazione comunale al compleanno dell'Informa Giovani. Il logo è stato fatto da Omnia Comunicazione. Sono tante le notizie che noi troviamo all'interno del sito dell'Informa Giovani, basti pensare alle informazioni sulle offerte di lavoro, concorsi pubblici, ma non è solamente questo perché hanno progettato tante cose, basti ricordare Spazio Under 20, un evento che abbiamo fatto nel 2018 e nel 2019. Ma poi sono tante veramente le cose che loro offrono. C'è la possibilità comunque di parlare con le stesse operatrici, quindi per avere un confronto, un colloquio. Si possono fare anche tante attività, fanno dei corsi di progettazione, dei momenti di approfondimento con tanti esperti. Quindi è veramente una risorsa per il nostro territorio, un servizio di cui andiamo orgogliosi come amministrazione comunale e come politiche giovanili. Le attività in cantiere ce n'erano tantissime, appunto l'emergenza sanitaria ci ha costretto un po' a rallentare, ma non ci siamo mai fermati. Abbiamo cercato di privilegiare le informazioni sui social, online, anche magari a volte collaborando da casa, ma il contatto con i ragazzi è stato sempre fondamentale e abbiamo cercato sempre di mantenerlo. I progetti in cantiere ci sono, appunto stavamo proprio portando davanti uno in particolare, ma ci siamo dovuti proprio fermare per questo motivo qua, ma a breve, appena si potrà, lo realizzeremo. Anche perché è un progetto a cui teniamo tantissimo e perché è stato fatto insieme ai giovani, quindi è un progetto che non è fatto da noi per i giovani, ma insieme a loro. Io sono una delle fondatrici dell'Informa Giovani, il 3 maggio 1990 è stata la data di apertura dell'Informa Giovani. Io c'ero e quindi per me è stato proprio un figlio, è nato da sempre, da quando ancora già ero giovane io. Una volta era un progetto fatto da giovani per i giovani, adesso siamo un po' meno giovani, ma questa cosa ci dà ancora più orgoglio, nel senso che abbiamo acquisito una certa esperienza e l'informalità, la professionalità che abbiamo acquisito in questi anni, la stiamo poi traducendo verso i ragazzi. E apriamo ora la consueta pagina dedicato allo sport nel nostro telegiornale per parlare di basket. In seguito alla sconfitta incassata ieri dalla Carpegna Prosciutto Pesaro in trasferta a Brescia per l'ultimo match di regular season del campionato. Vediamo quindi il servizio di Edoardo Razzi. Si chiude con una sconfitta il campionato a due volti della VL. A Brescia la squadra pesarese esce battuta per 86-84, non riuscendo a recuperare nei minuti finali una partita che aveva condotto per larghi tratti. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 47-42, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro riesce ad allungare fino al più 14, ma il risultato viene messo in discussione dai padroni di casa, che riescono a trovare la parità a 4 minuti dalla fine. Il definitivo sorpasso arriva a meno di un minuto dalla sirena e i 16 punti di Filippoviti e i 13 di Robinson non hanno evitato alla VL il quarto KO di fila, terminando la stagione al tredicesimo posto e un'annata fatta di tante soddisfazioni, ma anche di tanti rimpianti. La finale di Coppa Italia e un'ottima prima parte di campionato che ha visto Pesaro orbitare nei primi otto posti rimangono comunque un dolce ricordo e Coach Repesa al termine del match si complimenta con la squadra per i risultati ottenuti. Il primo quarto dopo abbiamo messo difesa a posto, attacco in posto, attacco a posto e tutto funzionava molto bene fino a 34-35 minuti dopo per sfortuna abbiamo buttato via tutto che abbiamo fatto bene prima, dopo più 14 quando sembrava partita già vinta, abbiamo subito un break veramente pesante dove non abbiamo fatto bene in transizione difensiva, non abbiamo fatto bene in difesa e così è finita come è finita. mi dispiace non finire con una vittoria che ci voleva come onore per tutto quanto che abbiamo fatto quest'anno, ma la vita è così, va avanti e vorrei fare complimenti ai ragazzi per tutto che hanno fatto quest'anno, come sono stati disponibili, come l'ho stato uguale stasera e è così. Ed è arrivata un'ultima ora per quanto riguarda proprio il basket, infatti la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver rescisso consensualmente il contratto annuale con Franz Massenat. La società biancorossa ringrazia Franz per la grande professionalità dimostrata nel corso di quest'annata trascorsa Pesaro e gli augura un grande in bocca al lupo per la parte conclusiva della stagione. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, prima però come sempre l'appuntamento per scoprire la programmazione su Rossine TV, infatti questa sera si parla di sport ed esattamente di football americano con una nuova puntata di Jacome Angels alle 21.15. E poi ancora in seconda serata abbiamo il consueto appuntamento con Spazio Webbo alle 22.15 condotto da Michele Panzieri e Topazio Perlini con Marco Cesarini. E poi invece domani mattina ritorna una nuova puntata di Casa Rossini, tra l'altro programma che continuerà per tutto il mese di maggio, quindi non perdetevi questo ultimo mese di interviste fatte da Paolo Pagnini, domani infatti alle ore 10 in diretta. Ci sarà Tommaso Di Sante che è presidente della Coldiretti Pesaro e Urbino, Stefano Aguzzi che è assessore della Regione Marche e poi ci sarà Matteo Morri, pilota di Moto3. Poi qui vedete anche descritte le repliche e se non riuscite a vederla domani in diretta. E poi domani, mercoledì 12 maggio, alle 16 invece vi aspettiamo in diretta con i quarti di finale dell'Ital Service Calcio a 5, del Calcio a 5 appunto di questo campionato che abbiamo seguito tutto, domani è la volta del signor prestito contro Ital Service Pesaro. Non perdetevi l'appuntamento alle 16. E questa è la programmazione di Rossini TV, prima di chiudere però vi voglio ricordare il nostro numero per le segnalazioni, ma se scaricherete la nostra applicazione gratuita Rossini TV, potrete mandarci le vostre segnalazioni direttamente aprendo l'applicazione. Dall'applicazione potrete anche vedere il telegiornale, la rassegna, tutta la programmazione di Rossini TV anche fuori casa, quindi uno strumento utile per essere sempre collegati con la nostra emittente televisiva che vi aggiorna appunto sulle notizie del territorio. Grazie mille, l'appuntamento con informazione torna domani mattina, ci vediamo quindi alle 7.20 in diretta.